Grazie. Il collega Sottanelli, prego. No, prima del collega Sottanelli c'era Duva per richiamo al regolamento, prego. Articoli 1, Presidente, il 39. Prego. Argomenti fuori tema. La collega Grillo ha fatto un intervento chiedendo delle quote delle, sappiamo, benissime le iniziative parlamentari e delle leggi. Collega, sono io che ho dato la parola al collega Rosato, uno per gruppo. Sulla questione del regolamento, lo sappiamo bene tutti quanti, che ci sono una serie di precedenti su questo tema che prevedono il rinvio in commissione per i casi anche di proposte di legge in quota opposizione. È stato così tante altre volte anche in passato. Il collega Rosato è intervenuto sull'ordine dei lavori per la proposta di rinvio in commissione del collega Dell'Ai. E allora aspettiamo la replica per quanto ha detto la collega Grillo sulle parlamentari. Le ho appena risposto, le ho appena risposto, le ho appena risposto. Adesso il collega Sottanelli, prego. Grazie Presidente, noi come gruppo di scelta civica siamo favorevoli al rinvio proposto dal collega Dell'Ai perché riteniamo che questa proposta sia demagogica e populistica in un momento particolare e pensiamo che invece il problema vada affrontato nella sua interezza in maniera molto seria perché ci sono colleghi parlamentari che per svolgere il proprio mandato rimettono tanti soldi perché hanno lasciato professioni, hanno lasciate aziende e non come tanti altri colleghi Presidente che si sono ritrovati qui in Parlamento come primo lavoro diventare parlamentari. Noi riteniamo che fare il parlamentare debba essere un servizio, un servizio che si rende alla nazione e non un'opportunità per cambiare status. Allora noi vogliamo che ci sia una proposta complessiva, intelligente.